Musica Non hanno potuto portare a termine un furto ai danni della banca Carime di Viale de Blasio a causa del tempestivo intervento delle guardie giurate dei Livri. Intorno alle 4.30 del mattino alcuni ladri sono riusciti a penetrare nell'istituto di credito sito nella zona industriale di Bari e ad asportare la cassaforte dopo aver messo fuori uso l'impianto di allarme. Il movimento sospetto è stato però individuato da una pattuglia dei Livri in servizio nella zona industriale. Gli operanti davano immediata comunicazione della presenza di individui sospetti nella banca Carime e la centrale operativa dell'istituto che allertava in tempo reale la questura di Bari. Sul posto giungeva quindi una volante del 113 a supporto della pattuglia dei Livri. Congiuntamente gli operanti intervenivano per reprimere l'azione delittuosa. I ladri, colti con le mani nel sacco, non hanno potuto far altro che abbandonare cassaforte ed attrezzi, oltre ad un autocarro ancora in moto per dileguarsi nelle campagne circostanti. La pattuglia di zona che è assegnata sulla zona industriale ha notato un paio di tipi sospetti all'interno del ricinto che ha prontamente allertato la nostra centrale operativa e che a sua volta ha allertato la centrale della questura. Nel fare l'intervento si sono andati alla fuga, lasciando qui un camion posizionato sopra la cassaforte e in moto pure.